E confido nello spirito. Se dovesse calare il sipario su questa amministrazione, di sicuro a perdere sarebbe la città. Sono le parole del sindaco di Corato Massimo Mazzilli, che nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Sala Verde del Comune ha rassegnato le proprie dimissioni. Il primo cittadino lascia la carica, comunicando però allo stesso tempo la disponibilità dell'Aggiunta a rimettere le deleghe protocollate al Comune. In questo modo l'Aggiunta potrà continuare a lavorare, per quello che è stato definito dallo stesso Mazzilli un atto di responsabilità e di buona politica. Il sindaco dimissionario ha comunque precisato che lavorerà fino all'ultimo momento per cercare di risolvere la crisi che qualcuno ha aperto. Ho dato le mie dimissioni e ho registrato la disponibilità degli assessori. Magari può servire un po' a rasserenare il clima, a dare degli elementi al Consiglio Comunale, di pensarci su quella mozione, magari concedendo i termini e la possibilità a me di trovare una soluzione. Solo questo il fine, senza privare nulla e nessuna prerogativa a nessuno. Ovviamente solo per spirito di buona volontà, servizio a vantaggio della comunità per concludere naturalmente un mandato amministrativo e senza che la città magari per diversi mesi di cui, perché lo dobbiamo dire, fino a quando si va a votare, quest'anno sarà proprio all'ultimo termine possibile. Parliamo a fine anno di avere degli organi operativi. Abbiamo tanti progetti aperti, tanti progetti candidati, tanti regolamenti da approvare, tante situazioni ricadenti sulla città. Allora se si vuole privare la città di tutto questo si va davanti su questa sfiducia. Se invece si vuole riflettere, magari trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, allora si dia la possibilità. Io sto cercando di favorire questa possibilità. Il voltafaccia del gruppo politico Movimento Schittulli Mazzilli ha commentato nel corso della conferenza stampa la mozione di sfiducia mossali dei consiglieri comunali, parlando di atto di gravissima slealtà e definendolo un comportamento distruttivo e ottuso. Il primo cittadino dimissionario ha poi denunciato il voltafaccia dei consiglieri del Movimento Schittulli e si è rivolto agli indecisi, a colori i quali non abbiano sottoscritto la mozione e a colori i quali che pur avendola sottoscritta siano disposti a rivederla. Mazzilli ha comunque 20 giorni di tempo per poter ritirare le proprie dimissioni.